Sabato 16 dicembre Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano gli artisti del concerto di Natale e nel suo discorso, incentrato soprattutto sull'importanza dei canti natalizi di matrice popolare, ha esortato i rappresentanti della categoria ad impegnarsi affinché questa ricorrenza non sia vittima di un modello commerciale consumistico. Ma che almeno i canti natalizi conservino questa poesia e questa spontaneità che le dà tanta vita, aiutateci a difenderlo da questo bus. Francesco anche in questa udienza non ha dimenticato tutte le persone che soffrono per la violenza dei conflitti. Cari amici, so che oggi canterete anche pensando a coloro che vivono questi giorni il dolore della paura a causa della guerra, tanta guerra, purtroppo pure nella terra di Gesù, anche per questo vi ringrazio e vi benedico. Grazie. Grazie.